La visita del nuovo Presidente nazionale Dario Costantini, il nuovo Presidente nazionale di CNA, è un'occasione importante per fare il punto della situazione su alcuni temi chiavi per le imprese della nostra provincia, della nostra regione. Primo fra tutti la grande polemica, la grande diatriba che c'è sulla legge Bolkestein, sulla direttiva Bolkestein, che è una direttiva europea, che impone la gara per far sì che ci sia concorrenza anche a livello di concessioni e nella fattispecie soprattutto di concessioni, e facciamo riferimento alle spiagge, ai bagnini, ma non solo, tanti temi affrontati fra cui il caro Bollette, il caro Energia, l'inflazione, insomma un'occasione davvero per affrontare un insieme di argomenti molto importanti per le nostre imprese. Quello che mi auguro io è un futuro di buonsenso dove le donne e gli uomini che negli anni hanno permesso anche il vostro territorio di essere così accogliente per noi turisti andranno avanti ad investire, se ne ne daremo l'opportunità, per rendere ancora più bello il territorio, per rendere ancora più sicuro il territorio e quindi per rendere ancora più conosciuta nel mondo la vostra città. Mi auguro che la politica ci dia una mano, non farci del male, perché sarebbe veramente farci del male, creare un futuro di una gestione in franchising delle spiagge con stabilimenti tutti uguali, ecco io vengo dall'entroterra, vengo dalla pianura e so bene il valore aggiunto per i pochi giorni di ferie ormai che una famiglia si riesce a permettere, trovare queste donne e questi uomini che ti accolgono e che ti fanno passare finalmente quella settimana, quei 15 giorni di serenità, perché non dimentichiamo che queste sono famiglie, sono famiglie che hanno investito in questi luoghi, sono famiglie che contano su questi luoghi per vivere e spesso per vivere tutto l'anno e quindi quando sei in questa condizione qua cerchi di fare il meglio. Io credo ci sia stata una grande evoluzione in questi anni, sia davanti agli occhi di tutti, nell'accoglienza per esempio dei bambini, nell'accoglienza più in generale delle famiglie, con servizi di ristorazione che prima non c'erano e adesso ci sono, un settore che ha investito tanto, un settore che ha investito con buon senso, che è un genialità, come noi italiani siamo abituati a fare e quindi io mi auguro che il nostro paese abbia il buon senso di aiutare queste donne e questi uomini e permettere loro di fare ancora meglio per il bene del nostro paese. Con il presidente della CNA Marche siamo qui presso la sede di Pesaro per parlare di questa direttiva Bolkestein che così da vicino interessa le nostre imprese. Oltre 900 sono gli stabilimenti banleari delle Marche, 250 quelli nella provincia di Pesaro che sono a dover affrontare un futuro davvero molto difficile e soprattutto molto incerto. Un futuro difficile, un futuro sicuramente incerto, però diciamo che con il Consiglio di Stato è ben o male riportato la sentenza di novembre e quindi adesso dal 13 gennaio si parla appunto di quelle concessioni che sono state ben o male messe a disposizione prima del 2009. Questo è un traguardo importante, un traguardo che dà un certo tipo di sicurezza a chi ben o male ha preso licenze prima del 2009 ma noi dobbiamo dare le certezze a tutti. Questo è quello che l'Associazione vuole, cercheremo di portare queste istanze appunto sui tavoli nazionali che contano perché tanto le soluzioni sono o all'interno del nostro governo, all'interno del Parlamento oppure in Europa diciamo. L'imprenditoria prima di tutto ha bisogno di poter guardare avanti, di poter guardare al futuro con una certa stabilità perché altrimenti non ci saranno mai gli investimenti e in questo momento il problema della Bolkerstein, di quello che è stato anche il ricepimento in Italia e poi le varie sentenze del Consiglio di Stato ancora non danno queste certezze che sono invece fondamentali per i nostri imprenditori. Certo, peraltro in un momento così difficile per tanti motivi, siamo in piena fase pandemica ancora, non solo, il caro delle bollette, tutte le spese a carico delle nostre aziende effettivamente fanno sì che questo sia un momento davvero molto duro e quindi CNA è sicuramente ben pronta ad aiutare le imprese che vi aderiscono. Hai detto delle cose giustissime, siamo a mio avviso in un paradosso economico ci sarebbero i denari necessari e tutte le situazioni per poter prevedere una crescita stabile nei prossimi anni purtroppo il fatto che ancora siamo in mezzo alla pandemia, il fatto che prima era un problema tutto italiano che poi è diventato mondiale la scarsezza di materie prime e quando ci sono la speculazione enorme sulle materie prime quindi dei costi esorbitanti, io ci metterei dentro anche l'inflazione e la tavica mancanza di infrastrutture nella nostra provincia, sono tutte situazioni che questa crescita ce la rallentano non solo ce la rallentano, rischiano di bloccarla perché effettivamente siamo in un momento storico in cui i nostri imprenditori hanno dimostrato davvero di fare la differenza i dati dell'export rispetto all'anno precedente sono straordinari soprattutto tra i nati nel nostra provincia da una manifattura guidata dalla meccanica, dal legno e dalla nautica che davvero fa la differenza e fa lavorare tutto l'indotto di contoterzismo purtroppo ci stiamo facendo del male da soli e abbiamo bisogno di sciogliere questi nodi fondamentali per poter permettere agli imprenditori di avere certezze nei prossimi anni grazie